Trovo questo libro molto interessante e molto utile per noi insegnanti e molto accattivante per i bambini. Ha tantissimi punti di forza. Io penso che Story Lane sia un sussidio completo. I bambini al primo impatto si divertono a sfogliarlo. Ci è piaciuto subito, la prima volta che l'ho visto tra le altre proposte mi ha colpito subito. Ha delle immagini veramente accattivanti. I bambini riescono a fare dei collegamenti con la propria vita. Ho scelto questo libro per l'importanza che dà lo storytelling. Il bambino è affascinato dalla narrazione. Mi aspettano con ansia la possibilità di diventare questi personaggi e renderli al massimo vivi. La narrazione secondo me è lo stimolo per invogliare ad utilizzare la lingua inglese. È attuale, quindi tratta di argomenti che ai bambini interessano. Ogni volta che i bambini riescono a collegare le conoscenze fatte attraverso le materie scolastiche con il proprio vissuto nella vita reale sono più significative.